Lega Basket Serie A e Beco Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A Beco. Elettrodomestici, il marchio della Smart Generation, presentano Serie A e Beco. 11 secondi a disposizione dell'attacco della Lenovo con Tabu fuori per Leunen, fa la persa da Cantù, possibilità di contropiede e da dove, a chiudere con la schiacciata. 12 secondi a disposizione dell'attacco della Smart Generation, presentano Serie A e Beco. Mamma mia! Ma ritorniamo con la partita, con Phil Gross che alza questa palla per la Leum, chiuso da Laval. Si alza un urlo che con questa partita non ha niente a che fare, Pietro da 3. Oh! Dimenticato, Daganina Val, arriva Rimorchio a inchiodare la prima schiacciata. Dato senza l'uniparziale, Fabrizio. Se capite ancora Pietro. Ah, Zaius! Stoppato, Raglan recupera due volte e poi pestano ieri in fondo. Bravo Jack, bravo Jack, bravo Jack. Damus, prende la tripla. Sì, sì, sì! Bruggermente! Jeff Brooks! Schiacciata volante di Jeff Brooks! Parte Roma dopo il breccio e Cantorino di 4-0 che l'ha portata avanti di 4. L'altra parte è alzato dalle IUP per Daniela Val da giornatello. Eletrodomestici, il marchio della Smart Generation, hanno presentato Serie A Beco.